Ragazzi post partita di Belgio Inghilterra io come sempre tipo Inghilterra ma ragazzi non sono felice perché appunto l'Inghilterra a parte che ha perso perché se vuoi essere felice ma ragazzi alla fine non fa niente Prima di parlare appunto della partita ragazzi faccio piano perché appunto è tardi a mezzanotte Non mi sarei mai aspettato ragazzi di fare questo video perché avete visto tutti quanti che non ho pubblicato video in questi giorni ragazzi Perché mi hanno disattivato l'account di Google e praticamente non esisteva più il mio canale su YouTube L'ho disperato pensavo che i miei video probabilmente non tornassero mai più ragazzi meno male che sono tornati Perché appunto ho cambiato ovviamente data perché l'account Google cioè gli operatori di Google hanno fatto un sondaggio su molti account Di chi era minorenne io come uno scemo avevo immesso che la data era minorenne Ragazzi ho cambiato allora il nome cioè ho cambiato la data del mio account sono andato appunto dal tecnico E ragazzi proprio adesso sono alle 11.40 e me l'hanno me l'hanno riattivato Allora ragazzi abbiamo voluto portare questo video Quindi ragazzi post partita proprio al volo di Inghilterra di Belgio Inghilterra finita con 1 a 0 per il Belgio Ragazzi prima partita persa appunto nell'Inghilterra ma alla fine non sono così tanto arrabbiato Perché innanzitutto abbiamo fatto l'Inghilterra rispetto alle partite scorse ha messo praticamente i cittoni in campo 8 cambi su 11 è veramente tanta roba così come il Belgio Però ragazzi se avessimo fatto primi avremmo incontrato sì che avremmo incontrato le otta vedi finali là Il Giappone che molto probabilmente saremmo passati Però ragazzi se appunto fossimo passati contro il Giappone Incontravamo proprio il Brasile perché ragazzi molto probabilmente il Brasile passerà Mi sembra che dovrà fare con il Messico Quindi non penso che appunto il Brasile adesso non passerà con il Messico Quindi ragazzi se facciamo prima abbiamo un tabellone molto più difficile Infatti ragazzi alla fine abbiamo fatto secondi E questo secondo posto ragazzi sì che ci va a fare appunto contro la Colombia Ma se dovessimo passare contro la Colombia prenderemo una tra Svezia e Svizzera Ragazzi è veramente tanta tanta roba Prendere una tra Svezia e Svizzera e non come il Brasile o il Messico È molta più roba rispetto all'altro tabellone Quindi ragazzi alla fine è un secondo posto che sono contento Da domani ragazzi torneranno i video probabilmente giornalieri Domani mi sa che caricherò tre video proprio per sbogarmi Perché questi video in cui non ho fatto Cioè in questi giorni in cui non ho fatto i video veramente sono stato male Ma male 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 Pensavo che l'account non mi tornasse mai più Dovevo pure aprire un nuovo canale Dovevo rinserare tutto ragazzi Vedere questa cosa mi ha veramente reso felicissimo Grazie quindi al tecnico che saluto Non so mai se vedrà questo video Ha detto che si iscriveva al mio canale Vedremo se si iscriverà Detto questo ragazzi fatemi sapere la vostra acquistata Sotto nei commenti della partita di questa sera Io vi ricordo di lasciare un bel like di scegliere al canale E bene, ciao